Uno gli ha ordinato di tornare al proprio paese, l'altro gli ha tirato un pugno in faccia. È successo domenica sera, a Grado. La vittima dell'aggressione è un senegalese residente nella provincia di Gorizia, mentre i fautori del Gesta sono un ragazzo 31enne di Udine e un bosniaco 24enne residente a Pagnacco. Secondo le ricostruzioni gli aggressori erano alterati dall'abuso di alcol e si sarebbe acceso un dibattito per futili motivi fra i tre. Durante il diverbio, oltre a intimare al senegalese di tornarsene nel proprio paese, uno dei due ragazzi gli ha sferrato un pugno sul volto. Subito dopo averlo colpito, i due sono scappati, ma sfortunatamente per loro, lì vicino c'era un carabiniere fuori servizio che aveva assistito all'intera scena. Motivo per il quale sono stati subito raccolti elementi utili per individuare i fuggitivi da parte di una pattuglia dell'arma. Il 31enne e il 24enne sono stati quindi denunciati per lesioni e ubriachezza, dopo essere stati portati in caserma. L'episodio è ora al vaglio della procura della Repubblica di Gorizia. Il senegalese invece è stato medicato.